Io francamente non la so se possiamo contattere con Carlo Chico, quindi ce la cerchiamo così. Ciao! 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 Abbiamo un posto riposta tipo Villaggio Vacante! Go 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 Gianni Go Go Vai Ascuro Go Gianni Go Go Forte Sport Di più Go Gianni Go Go Forte Go Johnny Go Go! Va bene, passiamo la bella come a spola e cerchiamo di farla forte. Go Go Go! Go Johnny Go Go! Go! Go Johnny Go Go! Go Johnny Go Go! Go Johnny Go Go! Go Johnny Go Go! Yeah! Johnny Bego! Allora il prossimo pezzo è di una persona che va in giro in mutande leopardate e lancia le uova al pubblico perché questa canzone esattamente fa Oh mamma voglio un'uova al coco mamma e girare in sleep oh mamma e cantare il fuck e ballare wrong e Bush Io sono stato come rock.i sono stato come rock e sono stato come rock come rock Io sono stato come marco e sono stato come rock.i sono stato come rock behind me come rock come rob oh mamma voglio fare il casquet oh mamma si donando dal pij oh mamma e grittare ue ue come fai il casquet come rob ce ne ve mamma voglio fare il casquet oh mamma si donando dal pij oh mamma e grittare ue ue come fai il casquet come rob 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 Bene, grazie!